La Regione Toscana chiederà un tavolo istituzionale al Ministero del Lavoro per seguire la situazione di crisi della Falegname di Castelfiorentino dopo l'annuncio da parte dell'azienda di voler licenziare 29 dipendenti su 65. L'ho annunciato il Presidente della Regione Toscana durante una visita al mobilificio della Valdelsa dove ha partecipato insieme al Sindaco di Castelfiorentino ad un'assemblea dei lavoratori indetta dalla RSU e dalla Fillea CGL. I dipendenti dopo l'annuncio dei licenziamenti avevano dato la loro disponibilità a lavorare part-time riducendo le ore settimanali da 40 a 21 ma riferiscono i sindacati la dirigenza aziendale ancora non ha espresso il proprio parere. Questi lavoratori, ha dichiarato il Presidente, lanciano un messaggio fortissimo di unità e di solidarietà all'intera toscana e di volontà ferma di combattere per il lavoro. Il Presidente ha anche annunciato che inviterà la proprietà a mantenere contatti con la Regione e che incontrerà anche i sindacati per capire se e come possono essere attivati ulteriori ammortizzatori sociali dopo che il 21 marzo scadranno quelli attualmente in essere.